Bentornati sul canale dell'AppiFamily, oggi come già da anticipazioni sul nostro canale Instagram che vi invito a seguire, vi lascio il link in descrizione qui da qualche parte, insomma è facile raggiungerci anche lì quindi come da anticipazioni dicevo oggi parliamo di come andare a dividere un G-code cioè un file che attraverso un linguaggio macchina dà le informazioni, dà le istruzioni al computer per poter convertire un disegno tridimensionale in una stampa 3D piuttosto che in una lavorazione CNC il codice viene nel caso della stampa 3D viene compilato in automatico da uno slicer uno dei più comuni è Cura o Idea Maker io nella maggior parte dei casi, li uso entrambi ma nella maggior parte dei casi preferisco lavorare con Cura ma se lavorate con Idea Maker è la stessa cosa io vi insegnerò come andare a, partendo da un G-code, andarlo a separare, dividerlo in due G-code il che potrebbe essere molto utile, due o più G-code il che potrebbe essere molto utile ad esempio se avete la necessità, come in questo caso, di cambiare filamento quindi interrompere la stampa ad un certo punto e come in questo caso della scacchiera andare a cambiare filamento da bianco a nero piuttosto che andare ad interrompere la stampa in un momento, che decidete voi chiaramente per poter inserire all'interno della stampa degli elementi quali ad esempio dei dadi per delle filettature per fare degli accoppiamenti meccanici piuttosto che una calamita che si veda ecco qua una calamita, dicevo, per andare a realizzare una scacchiera di questo tipo che vi consente, se volete, di giocare in giro senza problemi comunque l'obiettivo non è tanto la scacchiera ma quanto appunto darvi le informazioni per poter andare a scorporare un G-code premessa, prima di addentrarmi nell'argomento vi dico che ho fatto un giro nel web per capire un attimo come poter iniziare a mettere le mani e ho trovato diversi video ma sono tutti, passatemi il termine, un tantino semplicistici nel senso che danno delle istruzioni ti danno delle indicazioni, più che istruzioni, per dividere il G-code ma senza entrare un po' nel dettaglio e farvi capire qual è il concetto alla base vi dico questo perché ogni G-code poi è diverso da un altro anche a livello strutturale vengono generati in modo diverso quindi se voi capite il concetto che sta alla base per poter separare il G-code vi risulterà molto più semplice mettere le mani anche su G-code relativamente complessi ma basta con le parole, passiamo ai fatti e andiamo ad aprire un esempio concreto allora questa è una pedina degli scacchi che io vado ad elaborare con uno software slicer tipo Cura e come risultato ottengo queste lavorazioni facendo scorrere il cursore qua sulla destra potete vedere che passo attraverso i vari layer che mi porteranno al mio risultato finale allora vedete che qua c'è un buco alla base un buco per poter far sì che la forza di attrazione tra le calamite o tra la calamita e il ferro o comunque il metallo sia più efficace quindi ho deciso di mettere di togliere tutte le barriere possibili facendo sì appunto che la calamita funzioni il meglio possibile visto che non sono calamite diciamo professionali quindi non hanno una grandissima forza di attrazione è anche vero che poi devono tenere su solo una pedina comunque chiaramente il foro che ho lasciato è più piccolo del diametro della calamita che vedete in un certo senso qua rappresentato da questo alone quindi cosa succede che io stampo 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 lascio la sede per la calamita il foro ha un diametro di 4 mm mentre la calamita ha un diametro di circa 7 mm 6 punto qualcosa quindi non c'è il rischio che scappi via ad un certo punto si chiude quando si chiude? è importante verificare la posizione il layer corrispondente alla chiusura vedete che qua ci sono dei numeri questi numeri non sono nient'altro che i vari layer che vengono diciamo sovrapposti quindi cosa succede? succede fondamentalmente che in corrispondenza del layer 19 io ho la chiusura se vado un layer sotto 18 ho l'ultimo strato disponibile per poter andare ad inserire la calamita ed è qui che voglio interrompere il mio gcode adesso qua ci sono delle possibilità di farlo in automatico nello specifico andate qua a estensioni post processing modify gcode si può aggiungere uno script quello che consente di interrompere il gcode questo qua pausa ad una determinata altezza quindi in millimetri o pausa in corrispondenza di un determinato numero di layer che è quello che abbiamo visto prima quindi in corrispondenza del layer mi sembra 19 andrebbe interrotta la stampa voi fate tutto quello che dovete fare lanciate nuovamente lo slicer in maniera automatica vi va ad inserire una pausa all'interno del gcode non dovete fare nient'altro che mandare in stampa il vostro file nel momento in cui arriverà quel layer 18, 19, quello che era si interromperà voi avete la possibilità di tra l'altro nel momento in cui mettete in pausa definite voi la posizione di parcheggio della vostra testina in modo che non vi intralci che non vi ostacoli nelle operazioni che dovete compiere di inserimento della vostra calamita piuttosto che ci sono altri script che consentono di mettere in pausa per cambiare il filamento insomma ce ne sono un po' di tutti i colori quindi voi settate i vostri parametri lanciate lo slicer se adesso non lo facciamo però se adesso andassimo ad aprire lo slicer vedremmo che in corrispondenza del layer layer abbiamo detto 18 quindi in corrispondenza del layer 18 la stampa si ferma e voi fate quello che dovete fare inserite la calamita, il dadino purtroppo però non è sempre così semplice nel senso che io ho provato nel mio caso non so se è legato al firmware della stampante o ad altre impostazioni software piuttosto che hardware cioè questo non funziona la stampante va in pausa però non c'è verso di farla ripartire ho cercato in rete ho trovato altri problemi altre persone che hanno avuto lo stesso problema quindi vi son detto lasciamo perdere quindi questo discorso del post processing quindi della pausa automatica cerchiamo di intervenire capire un po' qual è il linguaggio macchina ed andare ad intervenire manualmente su di esso quindi che cosa facciamo? noi facciamo lo slicer normale salviamo sul disco il nostro file chiamiamolo esercitazione e lo andiamo ad aprire con un qualsiasi programma di editing testo esercitazione vedete qui una serie di istruzioni in parallelo apriamo anche un file che vi metto a disposizione sul nostro sito gratuitamente con tutta una serie di appunti penso di scrivere anche un articolo comunque vi lascio tutti i riferimenti o qui in insomma impressione o in descrizione con tutti i miei appunti che mi sono stati utili che ho preso nelle mie ricerche che ho accumulato nelle mie ricerche che mi sono stati utili un attimo per capire un attimo come muovermi all'interno di un G-Code eccoli qua c'è un link ce ne sono tanti siti che parlano di G-Code quanti ne volete? c'è un link da cui ho vi faccio vedere anche il sito praticamente trovate qua sulla sinistra trovate un elenco di comandi e poi se ci cliccate sopra vi dice cosa fa quel determinato comando insomma le informazioni ormai nel 2023 si trovano a USA trovate una serie di sono i comandi principali che ho utilizzato per poter muovermi all'interno del G-Code comunque vi ripeto fare un articolo ve lo metto a disposizione gratuitamente potete leggerlo potete insomma fare quello che volete torniamo al nostro G-Code e teniamo aperto però anche il nostro slicer allora abbiamo detto che al layer 18 noi dobbiamo interromperci perché al layer 19 sarebbe troppo tardi layer 19 sarebbe troppo tardi cioè la calamita cioè la chiusura verrebbe realizzata non avrei più la possibilità di inserire la calamita quindi cosa facciamo? allora come primo vi do anche un po' qualche indicazione sul procedimento che adotto io in questi casi torniamo indietro pedina semplice esercitazione io lascio una copia del file non la vado a toccare la lascio così com'è faccio altri due file e lo chiamo esercitazione 1 di 2 1 di 2 è il primo G-Code che andrò a creare e 2 di 2 è il secondo G-Code che andrò a creare tra l'altro nel titolo del file vado a mettere anche per maggior chiarezza i layer che saranno compresi all'interno di quella di quella parte di file quindi la parte 1 di 2 comprenderà i layer 0-18 la parte 2 di 2 comprenderà i layer dal 19 in poi allora adesso vi dico 19 in poi metto 9-99 ok una piccola nota utile che vi servirà allora vediamo qua qua i layer vanno da 1 a insomma a crescere quindi il layer 18 nello slicer di cura in realtà nel nel file G-Code non sarà il layer 18 perché i layer nel G-Code partono dalla numerazione 0 quindi fondamentalmente il layer 18 sarà il layer 17 17 ok e quindi qua partirò dal 18 al ho messo 99 in realtà sarà il numero che sarà ok adesso apri in parallelo i due file e li tengo lì vicini eccoli qua giusto per avere un confronto diretto innanzitutto dobbiamo andare a pescare il layer che costituirà l'interruzione allora ctrl-e ctrl-f layer andiamo a cercare layer 18 eccolo qua lo troviamo di qua e lo facciamo allo stesso modo anche dall'altra parte layer 18 trova ok allora da qui inizia il layer 18 da questa riga inizia il layer 18 quindi da questa riga finisce il layer 17 quindi nel momento in cui arrivo qui devo andare ad interrompere il mio codice non faccio nient'altro che prendere e cancellare tutto quello che c'è dopo fin dove fin dove finisce ok il layer che è questo qua qua finisce il layer l'ultimo layer che sarà il layer vediamo in realtà è veramente il layer 99 io avevo messo un numero a caso ma veramente il layer 99 che però nel gcode vi ricordo sarà il layer 98 ok facciamo anche una verifica che sia il layer 98 98 trova trova su eccolo qua se io invece vado a cercare il layer 99 non dovrei trovarlo perché ok infatti non me lo ha ok layer 98 l'ultimo layer apro chiudo una parentesi vi dico che tutto ciò che è preceduto da un punte virgola rappresenta un commento quindi non verrà eseguito dalla macchina qua ci dice sostanzialmente che siamo arrivati al secondo 545 lgcode è finito qua cosa fa fa questa operazione che adesso vi vado a descrivere fermiamoci un attimo e apriamo una parentesi importante su quelli che sono il significato dei principali comandi che troverete allora andiamo sulla lavagna e diciamo che i comandi principali sono fondamentalmente 3 o 4 allora uno dei comandi è M106 ed M107 questo comando serve per accendere la ventola e questo comando serve per spegnere la ventola questo comando cioè il M106 oltre a spegnere la ventola bisogna dire a che regime mandiamo la ventola quindi oltre a scrivere M106 dobbiamo aggiungere la S e un numero che va da 0 a 255 se S è uguale a 0 la ventola è spenta se S è uguale a 255 la ventola è al massimo della velocità quindi ipotizziamo di voler accendere la ventola al massimo della velocità se non esplicitiamo il valore di S dovrebbe essere di default al massimo della velocità comunque andate a vedere poi su quel link a cui vi rimando lì trovate tutte le informazioni mentre per spegnere la ventola basta semplicemente l'M107 poi ci sono dei comandi che sono G0 e G1 che G0 e G1 fondamentalmente trovate qui un po' di dettagli di informazioni però più o meno fanno la stessa cosa devono avere la F cioè l'informazione sulla velocità di movimento quindi feed il valore 1000-15 sono i millimetri al minuto diciamo che per convenzione io uso i comandi G0 per le movimentazioni sull'asse XY mentre G1 per le movimentazioni sull'asse E adesso vi dico cosa vuol dire l'asse E cosa sono gli assi XY allora gli assi XY è molto facile intuibile capire sono gli assi della stampante XY e poi c'è anche chiaramente l'asse Z che è l'altezza o la profondità diciamo di quello che andiamo a realizzare quindi per quanto riguarda G0 ci consente di imprimere dei movimenti di tipo passatemi il termine spaziale ok movimenti nello spazio XY Y e Z per quanto riguarda G1 vi ripeto che la distinzione la facciamo più noi in realtà io potrei anche con il comando G1 imporre dei movimenti spaziali XY però diciamo per semplicità essendo i due comandi molto simili ho deciso si è deciso diciamo di dividerli in questo modo per quanto riguarda invece G1 viene utilizzato per regolare il movimento dell'estrusore cioè immaginate che il vostro filamento che viene avvolto su una bobina ha fondamentalmente una sorta di questo è il filamento avvolto alla bobina man mano che scorre attraverso il vostro sistema di movimentazione e viene sparato fuori è come se avesse una sorta di contatore una sorta di sistema di coordinate che partono da un valore 0 e pian pianino che viene srotolato il filo questo sistema di coordinate aumenta quindi ci sarà la coordinata 1 la coordinata 2 i valori sono espressi in millimetri ok quindi per quanto riguarda G1 ci occupiamo fondamentalmente dell'estrusore un'altra cosa da dire è che G0 o G1 vengono seguiti dal valore f cioè dalla velocità espressa in millimetri al minuto e dalle relative coordinate x, y e z nel caso di G0 e e seguito da un numero nel caso di G1 tenete conto che con soli questi tre comandi voi praticamente riuscite a manipolare in modo agevole un intero G-code allora torniamo un attimo ai due G-code che abbiamo visto in precedenza e torniamo al layer 18 posta su ok praticamente cosa succede? succede che dal layer per quanto riguarda la prima parte noi il layer 18 ci vogliamo fermare quindi prendiamo tutto quello che c'è dal layer dall'inizio del layer 18 in poi fino a dove? fino a qua che è l'ultimo comando che praticamente fa fare qualcosa all'estrusore da questo punto in poi ci sono dei comandi M140 che riguarda la temperatura del piano se non vado errato poi c'è la temperatura dell'hotend M107 spegne le ventole e altri comandi diciamo sono standard di chiusura potete andare a vedere il significato di questi comandi all'interno di quel link che vi ho mandato ok e qua abbiamo finito adesso invece torniamo qua alla seconda parte la seconda parte fondamentalmente deve iniziare dal layer 18 in poi quindi prendiamo tutto quello che c'è prima il layer 18 e andiamo a finire cancelliamo tutto fino a qua adesso vediamo nello specifico cosa fare ulteriormente allora iniziamo ad analizzare le prime operazioni che compie il nostro estrusore allora qua vedete che ci sono dei movimenti sull'asse x y e z che vanno fondamentalmente avanti e indietro è la prima parte di spurgo dell'estrusore quello che vedete compiere all'inizio quando l'estrusore praticamente fuori una linea e la fa aderire sul piatto una sorta di appunto inizializzazione scusate dell'estrusore per poter togliere tutte le parti vecchie che si sono accumulate nella stampa precedente faccio un salto indietro e vi dico ancora un'altra cosa importante che non vi avevo detto prima c'è un altro comando molto importante che si chiama G92 questo comando G92 serve a dire fondamentalmente alla macchina qual è la coordinata in quel momento dell'estrusore in questo caso ma potrebbe essere anche il concetto legato alle coordinate x y z facciamo un esempio concreto supponiamo che io inizio a stampare quindi parto da 0 1 2 sono arrivato a un certo punto che sono arrivato qui al terzo al millimetro 3 però per motivi che adesso vedremo capiremo io mi trovo fisicamente sul millimetro 3 quindi fondamentalmente l'estrusore si trova qui ma il valore non voglio che sia 3 ma voglio che sia 150 ma adesso capirete meglio quindi fondamentalmente sto assegnando una nuova coordinata al mio estrusore vi ripeto questa cosa qui la posso fare anche per le coordinate x y e z ma a noi servirà tantissimo lo utilizzeremo tantissimo per la coordinata quindi io mi trovavo sulla coordinata 3 ma da questo punto in poi voglio che quella coordinata sia la coordinata 150 quindi se io adesso dico all'estrusore di andare alla coordinata 151 quindi se do come comando g1 f15 la velocità 1500 millimetri al minuto e e 151 se non avessi dato questa informazione prima questa sorta di reset prima l'estrusore avrebbe srotolato il filo dalla coordinata 3 alla coordinata 151 quindi 148 millimetri di filo mi avrebbe srotolato in realtà avendo resettato tutto con questo comando quindi dicendo che la coordinata 3 in realtà da quel momento in poi considerala come coordinata 150 se adesso gli dico coordinata vai alla coordinata 151 lui mi srotola semplicemente un altro millimetro di filo e non 148 millimetri di filo ma vi ripeto adesso torniamo al nostro esempio e capirete bene il motivo di questo comando l'utilità di questo comando allora dicevo fondamentalmente che cosa fa ci sono una serie di comandi che fanno spurgare l'estrusore poi da un certo punto in poi G92 E0 io non so a che punto sono arrivato con lo srotolamento come vedete era arrivato all'E18 quindi avevo srotolato 18 millimetri di filo ma da questo momento in poi resetto tutto e quel 18 in realtà col comando G92 diventa il mio nuovo 0 ok adesso cosa devo fare ci sono una serie di comandi che noi da qui andremo a modificare quindi questi comandi li mettiamo tra due diciamo li andiamo di inquadrare in modo da identificare quello che andremo noi a modificare cosa vogliamo innanzitutto la testina dato che abbiamo già stampato una parte del nostro progetto la testina deve salire in modo tale che muovendosi su quanto già stampato non deve andare a collidere con quanto appunto già stampato quindi abbiamo qua la nostra prima parte andiamo a vedere che l'ultima coordinata 0 che viene fornita come informazione è 3.7 quindi siamo a Z 3.7 millimetri quindi la prima cosa che dobbiamo fare è dire ascolta andiamo almeno alla coordinata 0 coordinata Z scusate 15 millimetri quindi alziamo la testina in modo tale che quando poi si andrà a muovere per poter riprendere la stampa precedente non vada a collidere con quanto già presente sul piatto di stampa ok quindi una volta che io ho alzato la testina devo andare nell'ultima posizione che avevo lasciato nel layer precedente l'ultima posizione la vado a vedere qua è questa l'ultima x ed y che io ho dato come informazione nel layer precedente layer 17 era questa qua quindi sostanzialmente alzo la testina poi vado appunto nella vecchia posizione quindi sempre G0 allora io di prassi i movimenti sull'asse Z li tengo relativamente lenti quindi un 300 millimetri al minuto i movimenti sull'asse x y quando non sto stampando vado molto veloce quindi uso come parametro 9000 millimetri al minuto poi vado a mettere faccio un copio incolla le ultime coordinate x y che avevo e sono sull'ultima posizione a questo punto mi devo abbassare mi devo abbassare dove? devo andare devo riprendere dal layer che avevo lasciato in precedenza quindi z 3.7 quindi mi abbasso G0 ok e metto z 3.7 quindi praticamente con queste operazioni io sono esattamente sull'ultima x y che avevo abbandonato passatemi il termine nel layer precedente e sull'ultima posizione z che avevo abbandonato nel layer precedente andiamo a vedere qual era l'ultima posizione invece della e che avevo abbandonato nel layer precedente faccio ctrl f e io lo faccio di solito così quindi devo trovare questo ok l'ultima e che io avevo abbandonato nel layer precedente era e 78 ok quindi praticamente io adesso non so dove si trova la mia e a questo punto cioè il contatore mi interessa poco dove si trova devo semplicemente andare a dire che la posizione della e in cui si trova il contatore dell'estrusore in questo momento deve essere impostata a 78.28 731 che era l'ultima e che avevo nel layer precedente se io infatti continuo il layer 18 come vedete la prima operazione che fa è g1 questa è la velocità quindi va a questa x a questa y e a questa progressiva di estrusore che come vedete è molto simile alla progressiva l'ultima che gli ho impostato se non avessi fatto questa operazione di sincronizzazione passatemi il termine dell'ultima e con la e a cui mi vado a riagganciare avrei avuto sicuramente un problema quindi i comandi sono questi adesso l'unica cosa che devo andare ad aggiungere è la seguente cioè prima di salire alla quota 15 come vedete la e è impostata a 0 quindi siamo a 0 però prima di salire cosa faccio faccio una ritrazione per evitare che ci sia una bava di filamento che venga lasciata lì diciamo che mi potrebbe dar fastidio quindi prima di poter salire con la testina io il filamento che si trova a 0 lo risucchio a meno 6 e mezzo con questo capite anche che le coordinate potrebbero essere anche negative quindi lo risucchio indietro salgo con la testina vado velocemente nella mia posizione xy l'ultima dell'ia precedente scendo all'ultima posizione z che avevo abbandonato imposto come e l'ultima e che avevo registrato nell'ia precedente in modo tale che il contatore abbia una continuità e sia sincronizzato con tutto quello che ci sarà dopo e rimetto a 0 la mia e quindi g1 e uguale a 0 quindi prima qui ero risalito con la e salgo con la mia testina per evitare collisioni mi muovo sulla mia vecchia xy scendo a quel punto l'estrusore che avevo ritratto lo riporto allo 0 e col comando g92 gli dico che lo 0 che adesso è registrato in realtà non è 0 ma è l'ultima e che avevo nel video precedente cioè 78.28.731 a questo punto posso proseguire con tutto il resto tutto quello che c'è qua in mezzo lo vado a cancellare ok poi proseguirò proseguirò fino alla fine e qua non devo toccare niente ah l'unica cosa che forse mi ero dimenticato di fare è accendere le ventole quindi l'accensione della ventola posso decidere più o meno quando voglio posso deciderla qua dico m106 s255 tanto sono sicuro che più avanti adesso volendo posso anche ritrovarlo più avanti ecco ci sarà un punto alla fine in cui la ventola verrà spenta non ci resta adesso che provare salvare questi due gcode e provarli questa è la prima linea la prima passata quella di spurgo di cui abbiamo parlato quando abbiamo analizzato la prima parte del gcode adesso inizia a stampare questa è la prima parte appunto ovvero la base della mia pedina siamo già quasi arrivati alla fine della prima parte del gcode queste sono le operazioni finali dove la testina ritorna nella posizione di homing ok terminata la prima parte possiamo inserire a questo punto la calamita io uso una piccola vite per aiutarmi in questa operazione ecco qua ecco qua questa è la calamita inserita adesso stampa completata ok stampa e possiamo passare alla seconda parte quindi 2 conferma ok stiamo per ripartire ora vi metterò qui di fianco un parallelismo tra i movimenti che compie la macchina e le istruzioni del gcode proprio per capire ancora meglio il significato dei comandi e le istruzioni e qui riprendiamo esattamente da dove c'eravamo interrotti come giusto che che sia come era auspicabile che fosse ecco quindi proseguiamo stampiamo la seconda parte della nostra pedina stampa conclusa ed ecco qui la pedina la stacchiamo questa è la calamita inglobata al suo interno bene io vi ringrazio per la pazienza per la visione per essere arrivati sin qui se il video vi è stato utile non dimenticate di mettere un bel pollice in su un bel like di condividerlo se avete qualsiasi tipo di domanda potete lasciarmela qui sotto nei commenti andate a dare un occhio anche sul sito dove troverete probabilmente altre informazioni altri approfondimenti riguardo questo tema ed altri temi legati in generale al mondo me io vi ringrazio ancora vi do appuntamento al prossimo video sempre qui sul canale del happy family ragazzi